Due foggiani sono stati arrestati al termine di un'operazione antidroga compiuta lo scorso 9 marzo nel quartiere San Bernardino a San Severo e nella città di Las Torres de Cotillas nella regione di Mursia in Spagna. Il Blitz, con una serie di perquisizioni, ha visto la collaborazione internazionale tra i carabinieri del capoluogo Dauno e la Polizia Nacional Spagnola nell'ambito di un servizio di cooperazione internazionale di polizia sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e della Procura della Repubblica di Foggia. Gli arrestati sono un trentenne trovato in possesso di 35 grammi di cocaina, due panetti di hashish per un peso complessivo di 200 grammi ed una pistola ed anche un ventenne che aveva in casa invece 100 grammi di marijuana materiale per il confezionamento della droga e 35.000 euro in contanti. I due soggetti sono stati arrestati a Foggia e San Severo. Gli investigatori stanno accertando possibili collegamenti tra le due città, relativamente in particolare ai canali di approvvigionamento dello stupefacente. Complessivamente le due forze di polizia hanno schierato più di 100 tra carabinieri e agenti della Polizia Nazionale.